Allora, cosa stiamo facendo? Stiamo girando un progetto segretissimo Che poi in realtà è lo spot del Comic Con, quindi non è così segreto Quando vedrete questo video non sarà più segreto perché ovviamente sarà uscito il video Voi starete guardando questo backstage perché è uscito il video Però insomma, in questo momento è un progetto segretissimo Siamo per iniziare, forse, siamo alla biglietteria Ci manca solo il nostro bigliettaio e poi siamo pronti Iniziamo questa incredibile avventura, rimanete con noi Ma siamo in ritardo, vero? Eh? Sì, molto in ritardo Siamo molto in ritardo Infatti questa in realtà a me non serve per la scena Per minacciare le persone così non siamo più in ritardo Non siamo più in ritardo, vero? Ragazzi, siamo in ritardo Hai visto? Non ha funzionato Va bene Pronto all'azione? Sempre Allora, questa è la versione migliorata del casco che ho usato in First Person Jedi Come potete vedere, prima c'era una GoPro Adesso c'è una Alfa 7S II Con un 14 mm L'unica cosa di questa che è meno bella di quell'altra È che il contrappeso qui è un po' quello poraccio Quello stupido Se voi ricordate, avete visto il backstage dell'altra volta Se non l'avete visto, andatevelo a vedere Un link da qualche parte qui Il casco dell'altra volta aveva il contrappeso, quello brevettato Quello egeria Quello incredibile Questo invece abbiamo dovuto usare dei normali pesi Purtroppo In questione di budget Però il resto è molto più Stiamo in ritardo Non c'è niente di simpatico Allora, vi spiego una cosa Allora, venite con me Nel magico mondo di YouTube Noi adesso stiamo girando qui Al castello Quello che deve succedere è che subito dopo giriamo al centro direzionale E abbiamo mezz'ora per arrivarci Perché poi arriva questo traffico incredibile E non possiamo più uscire da qui Adesso vi faccio vedere dov'è il centro direzionale Venite con me Quello lì Lo vedete? Questo qui è il centro direzionale? E ogni volta che io mi affaccio Ricordo dove dobbiamo arrivare E non è bello per Come dire Per l'ansia Lui ha un leggero problema alla pelle qui Esatto, vedi? Ha anche un problema Una malattia Posso aggiungere ferita da spada Sulla lista delle cose da fare nella mia vita Tra l'altro non una spada qualsiasi La spada di Link Quindi è pure un taglio specifico È stato un triunfo? No, perché siamo molto in ritardo È stato un triunfo di Urla L'ho visto tutti Pensavano che stessimo girando Ben Ur Improvvisamente Le scolaresche che ci guardavano Però siamo molto in ritardo Questo è quello dello Shield Questo è il quartier generale dello Shield Nell'ascensore dove Capitano America fa La rissa E quindi questo era il backstage dello spot del Comic Con Mi scuso se si interrompe un po' bruscamente Ma poi è venuto a piovere Si è fatto tardi e quindi si è fatto buio È esplosa tutta Napoli È arrivato Cthulhu Insomma tutta una serie di problematiche Per le quali abbiamo dovuto sacrificare L'erberese del backstage Detto questo vi ringrazio per aver guardato Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato Alla realizzazione di questo video E come al solito Se avete una qualsiasi domanda Me la scrivete nei commenti Insomma dai Le solite cose su Siete adulti Sapete come fare Credo in voi Ci vediamo alla prossima rissa Ciao 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 Ciao